Ora tutto è pronto, possiamo andare nei bagni, possiamo passare da quel corridoietto nelle cucine, la incontreremo nelle docce, sì. Grazie. Grazie a tutti. Tutto è pronto, ora spogliamoci e lasciamo i vestiti sull'appendipanni. Adesso apriamo l'acqua e tutto sarà esattamente com'era. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amara era tutto quello che sarei potuta essere, ma non c'era più. Avrei voluto cancellare tutto quello che facevo. E invece lo facevo di nuovo, sempre. Era colpa mia e scomparve dalla mia vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lì ti facevano quelle iniezioni che scuotevano il corpo e l'anima con una violenza. Un turbine di angoscia e dolore, vivevo nel terrore della volta successiva. Mi avevano portato al piano di sopra, in quel reparto dove nessuno voleva andare.